il futuro è già qui da centro marini ferramenta nel reparto giardinaggio potete trovare una multitudine di utensili e batteria come vece spugliatori tagliasiepi soffiatori elettroseghe e rasa erba liberi da benzina e fili manutenzione zero inserisci la batteria e la macchina partirà sempre la nostra gamma unisce tecnologia assortimento a bassissimo prezzo metterete sempre un'unica batteria per una moltitudine di utensili abbiamo selezionato anche una serie di articoli a scoppio o elettrici non mi resta che dirvi di venirci a trovare vi aspettiamo è è Grazie a tutti.